No, no, più che rispondere, volevo dire che se parliamo di storia, perché noi abbiamo sempre un modo approssimativo di parlare, vero sono importanti i fatti del 2014, ma io ricordo che la Russia, la Russia, l'Urs Lenin, fece la prima guerra all'Ucraina, e si scontrarono Lenin e Stalin su quello che poi doveva essere il destino dell'Ucraina, se vogliamo andare indietro. Parliamo di una situazione che non nasce nel 2014, non nasce nel 2004, ma il rapporto tra Ucraina e Russia, il rapporto conflittuale è antichissimo, per cui se vogliamo parlare di storia allora lo facciamo completamente, guardando almeno un secolo, non ci limitiamo agli ultimi 7-8 anni. Ciò detto, lasciando da parte la storia, le rivendicazioni, quello che è successo negli ultimi 7, 10, 20 o 100 anni, quando una nazione supera con i carri armati un confine ed entra in un'altra nazione, è difficile non dare il giudizio, non riuscire a esprimere un giudizio, e questo è il primo punto. Poi, questo giustifica le cose che magari fa una parte dell'esercito ucraino? No, certamente, la violenza non si giustifica da nessuna parte, ma se io devo giudicare chi ha commesso l'errore, l'errore l'ha commesso la Russia, entrando in una nazione sovrana e cercando di occuparla. E per quanto possano esistere rivendicazioni storiche o giustificazioni, noi abbiamo deciso, ma l'abbiamo deciso come consesso dell'umanità, di rimere i conflitti che esistono, sono normali nel mondo, senza usare la guerra, facendolo, non l'abbiamo deciso anni fa, abbiamo deciso che c'erano alternative alla guerra, poi la Siria, lo Yemen, l'Ucraina dimostrano che non riusciamo a fermarla, ma il giudizio da una parte o dall'altra, chi sia che la faccia la Nato o gli Stati Uniti, sia che la faccia la Russia, è chiaro quando c'è una nazione che viene invasa e un esercito che invade, quindi io non riesco a capire come si riesca a non dire tranquillamente questa cosa. Ma la cosa che mi ha dato un po' più fastidio, le devo dire, perché lei è qua oggi come sono io, è aver definito la televisione russa questo paese come un paese nel quale è impossibile parlare. Questo è un paese in cui sta parlando lei, parlo io, parla persone, parla Orsini, parlano persone che la pensano in un modo sulla guerra, altre che ne pensano in un altro, ci confrontiamo a volte anche in un confronto esagerato, per cui chi la spara più grossa viene invitato rispetto a chi ha l'abitudine di ragionare, per cui eccessivo da quel punto di vista, secondo me, da tutte e due le parti e alla fine ci dividiamo in guelfi e ghibellini senza la capacità di... Allora, guardi, Crosetto, posso dirle una cosa? Certo, ad esempio, mi ha dato fastidio nell'atteggiamento, perché tutto si può dire in questo paese, ce ne sono un sacco di cose negative da dire, tranne che ci sia vietato di dissentire. Allora, sì, voglio dire una cosa io su questo, perché francamente sono d'accordo, però, quello che ha detto Guido Crosetto, e non solo sono d'accordo, ma ne faccio una regola di vita, cioè in questo programma hanno sempre parlato tutti. Il famoso Puzzer che è stato citato nel video da Giorgio Bianchi, una persona che noi abbiamo ospitato più volte qui, una volta c'era pure, credo, Tommaso Cerno con noi. Onestamente, se c'è una qualità di questa nostra bistrattata, complicata, inefficiente democrazia, è che tutti in questo paese hanno la possibilità di dire la loro. Dopodiché esistono delle regole per quanto riguarda il Covid, motivo per il quale Puzzer fu portato via con quel tavolino da Piazza del Popolo, eravamo lì quella mattina, perché c'erano degli assembramenti senza mascherine, questo non era possibile, perché era un foriero di pericolo per tutti noi, come pure esistono, secondo me, dei punti fermi che Guido Crozzetto ha messo molto bene in luce in questo momento. Chi invade uno Stato sovrano e chi pensa di poter dirimere dei conflitti terribili, sottorranei, che hanno provocato morti e anche dolori tremendi per molti anni attraverso una guerra come questo, è dalla parte sbagliata della storia. E su questo, francamente, credo che possiamo essere tutti pacatamente d'accordo. Pubblicità.